Prendi confidenza col jumper tenendolo sul dorso della mano. Fai attenzione alla posizione del pollice. Se lo tieni nel modo giusto, il jumper resterà sempre fermo. Ora inizia a passarlo da una mano all'altra. Vedi? È facile. Quando ti senti sicuro, puoi iniziare con cose più complesse. Puoi usare anche i piedi, oppure la maglietta. A questo punto sei pronto per fare tutto quello che ti passa per la testa. Inventa le mosse insieme ai tuoi amici. Il brody jumper è proprio questo. Trovare il tuo stile. Inventa le mosse insieme ai tuoi amici. Inventa le mosse insieme ai tuoi amici. Inventa le mosse insieme ai tuoi amici. Inventa le mosse insieme ai tuoi amici.